Allora, allora ragazzi, ragazzi, allora io, vabbè, sì, sono stato dissato, ok, me ne frega un cazzo Tra virgolette ho risposto pure solo perché mi ha chiesto Livio, se no, se no me frega un cazzo proprio mi risponde Comunque, comunque, andiamo avanti, andiamo avanti Oggi vedremo quello che è successo Il caso social boom e omiatola sono stati accusati di molestie sessuali Non ho capito perché, ma andiamo a vedere Vediamo Intanto vi spiego il pred... Prego, ci spieghi, ci spieghi, ci spieghi, social boom, ci spieghi Ah, è stato bannato? No? Come? Greve Come è stato bannato? Greve, non lo sapevo, com'è stato bannato? Porco due... Eh, ma rovinato una puntata! E allora, vabbè, c'ho... Vabbè, parliamo di Ercole che è stato bannato E allora, vabbè, c'è stato bannato? Grazie a tutti.